In questi giorni ci sono state un po' di polemiche sui centri estivi perché tanti bambini, tante famiglie sono rimaste fuori, circa 1500, c'è qualche possibilità di recuperare altri posti? Noi quest'anno abbiamo i posti del 2019 che è già una cosa positiva visto i tempi che corrono, poi ci rifletteremo, tutto non si può fare però diciamo che il mio obiettivo era assicurare almeno i posti del 2019 e li abbiamo assicurati, quest'anno non c'erano altre possibilità.